ragazzi buongiorno oggi mi vedete a me sono le 8 di mattina oggi è un giorno speciale perché oggi è il compleanno di marianna che fa dieci anni che hai visto che cosa hai visto ragazzi noi abbiamo fatto vedere questa diciamo intro perché poi questa sera ci sarà la festa con le amiche giusto e lei non vede l'ora quindi ci vediamo stasera riacci ragazzi il continuo della mia festa guardate mi sono messa le unghie che vi ho fatto vedere nel video precedente che era un regalino dei miei genitori e oggi siamo adesso siamo di nuovo qui perché adesso è l'ora di essere ed è l'ora di andare a prendere le mie amiche le mie amichette di scuola quindi per festeggiare con loro giusto la terza no la seconda festa e adesso ci prepariamo in 3 2 1 eccoci qua siamo pronte per andare al locale e poi guardate il nostro outfit e guardate come siete belle adesso andiamo subito al locale andiamo a prendere le amiche e poi andiamo al ristorante e poi andiamo al ristorante pronta Mari si pronta per i festeggiamenti con le amiche tutta nuova ok andiamo è caduto tutto pronta andiamo ciao ci vediamo dopo eccoci ragazzi siamo arrivati al locale lì lì è lì all'albero lì è il locale qui ci sono tutte le mie amiche ferma ferma ma adesso andiamo al locale adesso andiamo al locale è un bel locale abbiamo presentato una sala tutta per noi vediamo se ci sottolineiamo non so se vi ricordo ma è Mariana soprattutto anziché su una del suo citofono faceva così al cancello si è Martina così non so se ve la ricordate ma lei e noi mi avevamo fatto il tiktok e il video del mio copriano eccolo qua lei e le burger eccoci a me entriamo è tutto tipo dammi una parola è burgeroso è una braceria è una braceria è tipo una bracerola questa è la carolina e poi ci stiamo abbiamo la sala gerbata è una braceria 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 andiamo ragazzi andiamo ragazzi Daddy contenta di stare qui che siamo arrivate adesso ci scegliamo un bel panino questo è tipo che già si balla stiamo imparando un balletto e lei è la mia amica Alessia che oggi farò un balletto con lei ragazzi qui è arrivato il paninozzo ecco la scena di questa sera paninozzo di Lele e Burger piccoli eh piccoli piccoli panini proprio piccolissimi non ti piace mangiare non sono grandi della mia bocca però Desi dai a Desi Desi l'ha fatta in miniatura vero Dedè però è buon uguale allora vai tre due uno auguri a me amm è gigante ho preso solo parte quella è stata super buonissima non No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma io ti penserò sempre perché non ti perderò mai come migliore amica. Però spero che questo compleanno non te lo scorderai mai e spero che nella tua vita sarai sempre contenta e felice di tutte le amicizie che avrai in futuro. Ti voglio un mondo di bene da Giorgia, da sta Giorgia. Che carino, grazie! Un abbraccio! Un abbraccio! Lenta, sai da, sai da! Dai Giorgia, non piangi! Il tuo cuore è forte! Mamma mia, vai! Ti sei emozionata? Quasi, sì! L'altro legale! Finiti i regali! Nooo! Vai! Legali a volontà! Vai prima questa, che c'è pure il regalino qua! Vai, vai! Alcolte io! Alcolte io! Vai, letti biettino! Letti biettino! Letti biettino! Sto facendo tutto! Unico! Tantissimi auguri! Di buon compagno! Da Martina, Alessia, Noemi, Giorgia, Rihanna, Nicole e Anita! Grazie! D'è in più! C'è! 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 Prego! Mani! Canta la carta! Canta! Maria, sei calma! Cinta, mi volevo io, mamma! Non me l'avevo mai! Uhhh! Che bella! Uhhh! Che bella! E poi! Guarda! E guarda! Maria, sei calma! Nooo! come avete fatto nel pensiero! io volevo questa qua proprio, me ne vuole! no per niente allora allora c'è la M dopo bella e poi vedi 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 ce la faremo? c'è una cosa che devo pensare aspetta tanto chi si è stasato in unghia operazione unghia alzi sorpresine ma non mi è apri aprilo apri un'iposca a penna dorata un'iposca a penna azzurra oh che bella l'hai capito tu? me l'hai regalata tu tutte tutte no perché cosa ce l'hanno pure ci ha pure ricina anche io pure io tutti ok ahhh sono piaciuti questi regali? si allora che si dice? auguri 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 Ciao Ciao Sì! 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 Eccoci che la festa è terminata! Che pizze! Come è andata? Bene, benissima! Però sono triste! Perché? Perché già è finita? Sì! Però ringraziamo tutti quanti per la bella festa! Vero? Sì! Dai Tito sei stata bene? Sì! Io c'ho un po' di palloncino! Eh sì! E come sempre noi vi diciamo! Speriamo tanto che questo video vi sia piaciuto! Mettetevi un pollicione! Iscrivetevi al canale delle sorelle passerelle! E attivate la campanellina! Din don! Din don! E lasciate molti commenti! E scrivete se... Anche voi verrete in questo ristorante si chiama Lele Booker! E' veramente buono! Ve la consiglio! E al prossimo video! Ciao! 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 Grazie! Ciao! Ciao!